buongiorno amici da los angeles io zappo a vigna voi che facete un'altra giornata infernale a ultra body allenamento a ultra body finito non so se tornerò mai più in questo magic posto infatti sono un po nostalgico ha dimenticato le chiave di casa e non c'è più nessuno in casa e sono rimasto chiuso fuori quindi adesso sono su un muretto un coglione niente mi sono messo fuori di casa a prendere il sole mi stanno guardando tutti male raga finalmente siamo riusciti a uscire di casa dopo forse andiamo a trovare degli rapper e quindi angie dovrà trovare un altro nome perché angie proprio non possiamo dire piacere angie quindi sarà angieieieiei qualcosa del genere ragazzi mi scappava la pipì e mentre andavamo abbiamo trovato un oasi nel deserto si è arrivato angieieiei si con le chiavi che emozione che emozione ma non ci credo sei felice ma è incredibile cioè era impossibile questa cosa incredibile ho appena preso questa collana delicatissima non so se notate la delicatezza anche l'anello è delicatissimo ok abbiamo finito di fare acquisti inutili adesso andiamo a trovare il mio amico alvaro soler che è in studio a registrare la prossima it invernale ha deciso di dedicarsi solo alle it invernali mi ha detto indovinate alle ciabatte e a los angeles è alvaro soler cosa dicevi amore che dove mangiamo dopo? a bocchini questi sono i fan di chiara chiara ha finito lo shooting e invece la mia giornata l'ho passata insieme a angie che mi ha portato a fare la cacca in diversi in diversi location su gestione grazie ordiniamo? da chi? da izakaya by katsuya vado a prendere la mano grazie a tutti